voglio fare i miei complimenti a risultati della design per questo meraviglioso traguardo dei 20 anni ecco come dicevo all'inizio mi dispiace non essere lì di persona ma vi mando tutto il mio affetto tutto il mio amore anche da qui sono con voi con il pensiero vi auguro ogni bene vi auguro tanti 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 altri traguardi e mi auguro di collaborare con voi tante altre volte in futuro bravissimi per tutto complimenti una buona giornata a tutti voi vi saluto da qui perché sto per partire ma auguro a tutti design your future ciao